Luca Susana, Don Luca Susana, classe 91, diacono della Diocesi di Padova, ma del 19 maggio entrare a far parte della lista dei presbiteri. Qual è l'emozione a poche settimane? L'emozione è tanta gioia, perché adesso con tutti gli inviti che sto mandando o le comunicazioni che sto informando alle varie persone a cui voglio bene, ma anche a tutti i conoscenti, tutte le persone che ho incontrato nel percorso anche seminariale e anche prima, tanti tanti ecco sono contenti e partecipano di questa gioia e questo mi rende tanto tanto felice. La tua comunità di origine, la comunità nella quale sei cresciuto e poi le comunità in cui sei stato da carico e da diacono. Quali sono tutte queste comunità e come le stanno vivendo loro in questi momenti? Valbona di Losso Testino è la comunità originaria dopo che mi sono trasferito con la mia famiglia da Merano e Valbona e Losso Testino perché alla fin fine ho lavorato con entrambe le due comunità. Poi ecco da seminarista invece ho prestato servizio nella parrocchia del Santissimo Redentore a Monselice, poi ho fatto due anni a Selvazzano Dentro e ora dove sono tuttora dove vivo a Miglianiga di Cadoneghe. Beh allora le comunità si stanno preparando, penso a Valbona, hanno già fatto qualche riunione per capire un attimo le varie celebrazioni le prime due messe ecco che andrò a celebrare e a Valbona e a Lozzo. Non so tanto perché appunto poi ci sono le sorprese e lascio che ci sia una bella sorpresa però ecco la gente quando torno a casa insomma o quando c'è la possibilità insomma è la che è contenta anche di vedermi e mi fa anche un bel in bocca al lupo. Nella comunità di Miglianiga in modo particolare un po' tutta la comunità si sta mettendo un po' in gioco nel preparare anche la celebrazione e alla partecipazione all'ordinazione presbiterale di cui anche tanti gruppi di cui faccio parte ecco già mi hanno detto che saranno presenti e quella e la prima messa che sarà il 2 giugno Corpus Domini in cui ecco stanno già organizzando qualcosa di bello ecco non è solo la festa per me ma è la festa di tutta la comunità e questo e questo è proprio bello mi piace. Due parole prete perché? Allora tu dici due parole prete perché io ne avrei tante allora prete perché perché lungo il corso della mia vita il Signore si è presentato molte volte tramite tante persone che mi hanno voluto bene tramite anche quegli incontri che mi hanno lasciato un segno mi hanno detto qualcosa di bello e di buono alla mia vita e questa cosa qui poi è ricaduta anche nel mio vissuto personale tanto che anche questa gioia di scoprire questo Signore che è risorto e che ci ama ci vuole bene mi ama mi vuole bene ecco questa cosa qua è il motivo principale per cui ho scelto mi sono sentito chiamato su questa strada qui quali sono state le voci utili per il discernimento per il riconoscere questa chiamata tra le tante del mondo e per farsi guidare verso questa strada che alla fine è diventata la tua diciamo l'esperienza che ho vissuto in parrocchia esperienza che come animatore come educatore e di azione cattolica poi anche aiuto catechista all'interno della dei vari cori delle delle parrocchie delle due parrocchie di lozze di valbona ecco mi hanno aiutato ad assaporare la vita parrocchiale e poi anche l'esperienza dei preti che ho incontrato mi hanno fatto desiderare questa vita parrocchiale appunto ecco in modo particolare questo l'ho assaporato all'ultimo anno in cui ho studiato ingegneria civile mancava un anno mancava qualche esame ho fatto ecco questo campo scuola questa esperienza di campo scuola e proprio lì mi sono sentito a casa il fatto di stare con i giovani il fatto di essere un loro educatore e vivere la preghiera insieme anche agli altri ecco questo mi faceva sentire casa e da qui poi ho scelto questa chiamata che il signore mi faceva ecco finito gli studi e poi ecco sono entrato a casa sant'andrea e dove poi ecco ha iniziato ecco il cammino del seminario per poi insomma portarmi anche a vivere anche fuori dal seminario vivere già in una parrocchia dove tuttora sono sono presente lì a miglianiga come ti vedi tra 5 10 20 30 anni cosa pensi che il tuo essere prete potrà con l'aiuto di dio fare per la chiesa di padova e se hai delle particolari aspettative dal punto di vista proprio di messaggio di stile che prete voi essere beh allora come mi vedo non lo so per ora non mi vedo mi lascio sorprendere anche da me stesso o anche da quello che mi verrà proposto o dalle persone che andrò a incontrare o che mi incontreranno o le comunità in cui andrò a servire appunto però ecco lo stile prete è quello della disponibilità e dell'accoglienza è quello dell'ascolto un prete che sa ascoltare un prete che è disponibile a farsi prossimo alle altre persone o alle persone che appunto ne sentono il bisogno ne hanno l'esigenza ecco poi ovviamente in una realtà complessa come quella in cui noi viviamo anche un prete che sa stare anche nelle difficoltà in questo ultime settimane di avvicinamento all'ordinazione tante persone ti faranno gli auguri pregheranno per te eccetera noi vogliamo ribaltare la cosa e in attesa della tua ordinazione qual è l'augurio più grande che fai alla chiesa di padova e che cosa ti aspetti che cosa sogni con lei e per lei io sogno di camminare insieme io sogno di camminare insieme con le persone con ma con tutta la chiesa avere non dico un obiettivo comune ma avere una strada comune questa sì che è la strada che ci indica il signore è la strada che ci indica il vangelo questo è il sogno per la chiesa di padova e anche per la chiesa mondiale insomma che sia un cammino comune non semplice perché di solito quando si cammina con tante persone dopo c'è chi vuole decidere chi vuole fare chi non vuole fare o chi si ferma ma tu cerchi di trascinare o cerchi di rialzare però è questo no il camminare essere consapevole nel fatto che è camminando che il signore si avvicina e poi ti incontra e questo a me piace tantissimo grazie prego grazie a tutti